E' un doppio vantaggio per lui. Ha impattato benissimo di testa sul cross per alto preciso del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Sono due gol per lui in questa cascina. Grazie.